Il suo scumandino Adesso possiamo vedere l'Aikino Con il suo scumandino Vai l'Aikin con il suo scumandino Tenta di fare lo botto Fai il botto, l'Aikin mi raccomando Cosa è il botto? Vogliamo finire il fatto Eeeh! Bravo, bravo! Do come facciutto Capate! Cosa è la classe? Buongiorno a tutti Grazie a tutti. Siamo arrivati a staccare o non so? Dime una cosa Dime una cosa Dime una cosa Dime una cosa Diconti 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 Sì ! Non m'è Di come ti senti a studio Dime una cosa Diconti 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 Grazie 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 Però c'è la luce Non andrà più, vero, vero Ecco Grazie